Si va agli ordini dello starter, partiti Zanini e Paolo, Paolo va in vantaggio su Zanini, il francese quindi conduce oggi, 4.000 metri, buona andatura di Paolo, attenzione che c'è una mini fuga iniziale di Paolo al primo ostacolo, Paolo nettamente avanti a Zanini che precede Mauritius che si mette terzo dietro Zanini che fa da apripista per ricuscire il gap su Paolo che davanti sono 4.000 metri, lo ricordo, ma sta andando via, zampe elevate, Dominic è quinto nel frattempo, seguiamo anche Schinz Rocche che è quarto, poi il Fucsia di Big City, davanti alle tribune Paolo nettamente avanti a Zanini, a Mauritius, a Dominic, Paolo nettamente avanti, dicevamo alla siepe mobile, quarta posizione Machito, in coda Dominic, Paolo affronta già la curva su Zanini e Mauritius, secondi e terzi, e all'attacco della letta di fronte si salta e poi si gira in diagonale, sono almeno 10-15 le lunghezze avanti di Paolo, su Zanini e Mauritius, nessuno che muove per il momento in diagonale, Paolo è avanti molte lunghezze, a Zanini e Mauritius, salto della diagonale, Paolo, Zanini, Mauritius, Machito, Schinz Rocche, curva di fondo, siamo neanche a metà gara, ma Paolo si mantiene sempre avanti ai rivali, e secondo me il Fantino sa quello che fa, perché è uno, pur essendo allievo, uno bravo, anche se è la prima volta che è montata qua a San Rossore, Paolo è in buon avanti a tutti, è in diagonale, immagine che fissa questa siepe, diagonale, Paolo, Zanini e Mauritius, Schinz Rocche, Machito, Big City e Dominic, Dominic in coda, ancora la diagonale, Paolo, Zanini e Mauritius, Schinz Rocche, Machito, Big City che muove nella scia, i due di Eichner, siepe mobile davanti al ristorante, quindi davanti al traguardo, Paolo, Zanini e Mauritius, Schinz Rocche, in coda sempre Dominic, che corre all'estrema attesa, Paolo avvicinato dai due gialloneri, che iniziano a muovere all'inseguimento, Paolo, Zanini, Mauritius, Big City e quinto nella scia di Schinz Rocche, poi Dominic in coda, preceduto a Machito, Paolo sempre in vantaggio, su Zanini e Mauritius, Schema in alterato, Paolo, Zanini, Mauritius, Schinz Rocche, Machito, di dentro Big City in coda Dominic, Paolo raggiunto, di dentro da Zanini e di fuori da Mauritius, poi Schinz Rocche, Big City, Machito e Dominic, ultima curva, Zanini prova ad andare su Paolo, all'esterno Mauritius, i tre allungano, Paolo, Mauritius, Zanini, Schinz Rocche, ora c'è Schinz Rocche che va nella scia di Mauritius, che attacca Paolo, poi Zanini, poi Big City con Mauritius che prova a passare a metà retta, su Paolo, Zanini, Schinz Rocche, gli altri non ci sono, Mauritius è in vantaggio, ora su Zanini, poco prima dell'ultimo passaggio, Paolo è terzo, Mauritius avanti a Zanini, Mauritius avanti a Zanini, nel finale Mauritius avanti a Zanini, è in plain giallo-nero, Mauritius, Zanini, Schinz Rocche, Paolo, Dominic, il grigio di casa Eichner, Mauritius, Joseph Vania, senior e junior sono papà e figlio, quindi è in plain giallo-nero, Mauritius batte Zanini e per il terzo, Schinz Rocche, precede Paolo, dovrebbe essere ancora quarto, ma rivediamo dal basso, Slozil che ci ha preso gusto, al doppio in giornata, pacca sul collo, saluta al pubblico, carezza al grigio, particolarmente bello oggi al tondino, io che non sono certamente uno che è guarda molto l'estetica, insomma il fisico, in questo caso però quando sono belli belli come in questo caso Mauritius, non puoi non accorgersi neanche te.